Ciao ragazzi, ebbene sì! Dopo ben dieci anni di lavoro su YouTube e al secondo anno del progetto 100 tiri, finalmente un video con un giocatore attualmente in attività. Odi Yonko Sunu è il difensore del Bayer Leverkusen, attualmente primo in Bundesliga. Un giocatore dal valore attuale di più di 30 milioni. Pensate che quando abbiamo fatto il video era 28, adesso addirittura 35. 35. Fresco MVP del match, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund in Bundesliga. Scusateci se le riprese del video non sono perfette e se magari abbiamo usato meno camere, però potete immaginare che con i calciatori attualmente in attività è un po' più difficile organizzare. E soprattutto in due giorni abbiamo organizzato una trasferta fino in Colonia con 20 ore di van. Tutto questo in nemmeno 48 ore. Io vi chiedo il massimo supporto. E cosa importante ragazzi, iscrivetevi al canale perché al milione di iscritti, che ormai manca pochissimo, vi porterò la prima 100 tiri con un giocatore in attività, e qui lo dico, ma stavolta, della Serie A. Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri, e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge, girone B. Cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo, e darà allora a disposizione 100 tiri. Non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno, andranno a calcolare la percentuale realizzativa. E alla fine dell'anno, riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano. E scrivete un commento al carissimo ZW, chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge, girone B. Ciao ragazzi, qua a ZW, bentornati sul mio canale. Quest'oggi è un video veramente speciale, perché siamo qui, vicino a Leverkusen, vicino a Colonia, per il primo ospite attualmente in attività. Siamo qua con Odion Kusunu. È un superonore per me. Non parlerò in inglese, perché magari non sono così buono, ma abbiamo il tradizionatore, Riccardo. Ricchi, per me è un onore, perché Kusunu è il primo giocatore in attività a partecipare a questa challenge, la 100 tiri challenge. È un'ottima honore per essere qui, perché sei il primo giocatore che sta giocando in una ligga che va a partecipare la nostra challenge. È molto felice che sei qui. È bello, bello. Sono veramente emozionato, perché comunque è il terzino destro titolare, giovanissimo del Bayer Leverkusen e della nazionale della Costa d'Avorio. Chiedegli se ha mai partecipato a qualche challenge sui vari canali YouTube. Solo nella Bundesliga Challenge, no? Ok. A volte. Ha partecipato alla Bundesliga Challenge. E basta, solo quello. Ok. Ok. Did you enjoy the challenge? Of course, of course. And can you talk about your past, of course, football past, but not only football, even about your personal past, like you started when you were very young to play football, you moved a lot of country. Can you talk about this for all the Italian? Yes, first of all, I was a student in my country and then my dad played football before, not as a professional, but he played with some friends and also in our city. Where? In Abidjan, you know, it's close to Abidjan, it's a small city, they call him Tiapum, you know? Yeah, so he started there, he played, and then I played also with them when I was very young. And some friends from him told me, like, it's better to bring me in an academy, you know, to start to play football and also go to school. So I got this chance to join the ASEC Mimoza Academy, and when I arrived there, you know, everything started. So I started at the beginning, and then after I got the chance to move in Sweden. Sweden? Yes. Why Sweden? Because you started the tournament there, and then the club from Amabi, they saw me there, and they invited me for trying, and then everything went good, so I was, I think, 16, something like that. 16. 16. And then from there, we started the process, like, to come, and also to come back. But you were playing in the first team at 16? Yeah, we train, but with my age, and then when you are not European, you cannot play the game, you know? So I just do some training, and I play with the under 21, until I get my 18. I signed my first contract, I play 16 months, I went to Belgium, two years, and then I came to Bayern Leverkusen. And you are the one, one of the best right back in the Liga, you know, in the Bundesliga. Yeah, you try, you know? You try. Yeah, to give the best every time, so yeah, we have the team, and then everything goes in the Google. First place, but we talk about this later, because I have to, sorry, sorry, goalkeeper, I have to present to you Ragnar, the goalkeeper of the streets. It's time, it's time. He doesn't know English, he doesn't know English, Ragnar, so I don't know how we'll do it. I just learn, sorry, I just, sorry for my English. Oh, okay. You've taught me well, huh? Okay, the challenge is 100 shots, you can't shot, like, over this line, so the ball has to be, like, on this, because even if you touch with a piece of the ball, the line, it's canceled. Yeah, canceled. 100 shots, after every shot, I will come 100 shots. 100 shots. 100. 100. 100. 100 shots. Wow. Yeah, it's easy. It's easy. It's easy. The record is 51 goals from Davide Moscardelli. Do you know? Former Serie A player. Oh. So he's a Bundesliga against Serie A. Okay. Okay. You are the first. Which person he played? Oh. He played like striker. Okay. I'm defender. No problem, no problem, no problem. So after 10 shots, I will come again to you and I have a lot of questions for you, but now I have to go, so the challenge, the challenge is without me. So sorry. Are you ready? Sure. Sure. You can go out now, but then you don't escape. Sotto il diluvio, under the... Vabbè, avete capito. Anche il traduttore ha perso il filo, cioè basta, è andata. Quanti gol pensa di fare? How many goal are you think you're gonna be scoring? Su 100 team. In 100? In 100 shots. The record, as my friend said, is 51 by Davide Moscardelli. 51, right? Yeah. Over 51. Yeah! Yeah! Grande cazzo! Over 51. Ci siamo ragazzi, tutto pronto! Kusuno per il record! Parte! Col primo gol! Occhio, occhio! Oh! You can stop the ball as you want, eh! Va molto veloce! Like this, maybe you could go so fast! Fuori! You could bring more time if you want! Odion! Exactly! Preca ancora! Sta tirando velocissimo ragazzi! Vediamo! Poi tira da molto lontano questo gol però! Secondo gol! Al primo giro! La va a piazzare ancora! Alta! Fuori! Ragazzi, è una challenge diversa! È diversa perché... Bravo Ragno! È diversa perché è molto veloce! Palo! Post! Post! Non è proprio il gol! 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 È un gol! Ma anche il gol in Germania! Ok? Ma il primo è per capire la tattica. Cosa che era una tattica, io non so. No, esatto. Si dice che era una tattica. Chi lo sa, chi lo sa. Ragazzi, comunque, questo è il primo giro. Si sta scaldando, io adesso torno lì, lui ha capito come si fa, tu glielo traduci e io torno. Seconde manche. Siamo a due su dieci. Let's go! Odilon. Fuori. Andiamo. Mi sembrava gol. Che conto è l'inglese. Ragnar. Another post is not goal. Ok, ok Odilon, ok. Gran parata questa del ragno di Melegnano. Ancora Ragnar che non molla. Odilon è velocissimo. Eccolo! Questo è un euro goal, questo è un euro goal. Siamo a due. Può superare il suo record. E lo fa. tre su dieci. Siamo a cinque totali. Ancora! Palo! Palo! Tre su dieci, totale. Siamo a cinque su venti. Ok bro, stai facendo un altro training oggi. Siamo a cinque su venti. Siamo a cinque su venti. Quindi è buono? È buono? È buono? Le pezzi. Le pezzi. Le pezzi. Le pezzi. Le pezzi. Le pezzi. Qual è la vostra difficoltà più grande? Mi chiederei la qualità della Liga. E anche la squadra. Non abbiamo una squadra piccola. Tutti hanno qualità in squadra. Quindi non è facile da giocare. Mi puoi chiedere qual è stato il giocatore più difficile da affrontare? Alan? Oh, Erling! Perché? Perché è forte. È grande. Quindi non è facile da difendere. Mi puoi chiedere come si è preparato per affrontare ad esempio un giocatore come Haaland? Come... Io faccio tutto in mio mente. Come... Ho bisogno di dare tutto. E poi... Sì. Se Haaland fosse qui, Per quanto riguarda il giocatore con il nostro giocatore? 100. 100. 100. Il giocatore è arrivato per tutti. Sono qui, Erling. Sono qui, Erling. Sono qui. Come... 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 We need the goal now. For the record. Ok! We need the goal now! Otto. 8. Ah... Unlucky, unlucky. Die, 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 die! Come on, come on, come on! For the 10. For the 10! Like this! Così! Che euro goal! Ragazzi, sta scaldando. Siamo a 10. C'è ancora più palloni. The last one! Move now! 4 su 10. Siamo a 11 totali. How do you feel? I feel... I feel... I have confidence, you know? To... To... To have more goals. You are improving more and more every... Every match. Yes! So... I have a little bit question now for you. Do you watch Serie A? Yes, I watch Serie A. I have a chance to play against two teams. In Italian. As Roma. And also Lazio. You know, when I was in Club Bruges. So... Both teams, they have a lot of quality. You know, so easy. Perfectly. What do you think about the difference from Bundesliga and Serie A? What's the difference between Bundesliga players and Serie A players? In Serie A, I would say, they have not a lot of space, you know? Because they defend a lot. And... The first festival is defend before attack. But here, you know, it's different. It's like both sides, you know? But in Serie A, they need to have... More control when you defend. And then after you can attack. It's really a pleasure and thank you for joining us. Thank you. So... Five match. Okay. You must surpass four. Come on. Come on. Come on. Come on. Eh, si sta scaldando eh. Bravo! Ragno! Come on! Bella! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! 12. You must surpass four. Bello! Il blocco di 4. Un euro di 3. Un euro di 3. Il blocco di 3. Raga, peccato. Ma a 13. La piazza! 어우! Crossbar is not gol! Crossbar is not gol! Ride! Oh! Stava passando! Però, bravo ragno! Si! Si! De tu, il fine? Go! Bello! Oh! L'ultimo! Ok, adesso ragazzi non ci fermiamo Gli facciamo fare un altro giro subito E poi andiamo ancora a fargli altre domande Cioè ragazzi, ma che roba vi stiamo portando Ok, quando ti vuoi, Odi? Mi manca 14 Ah, se la posiziona bene questa volta Eccolo! Ce l'abbiamo! 15 Ragazzi ha distrutto la traversa Stai distrutto la crossbar Sta calciando forte Comunque Bello! E' questo! E' questo! Ma il gol Si faceva il back-to-back Bro, ti smasch! E' carichissimo! Stato di fuoco di Yon Questo ragazzo è un giro clamoroso Ha fatto solo Euro-goal Ha fatto tre Poli-goal E' questo ragazzo è solo Euro-goal E' questo ragazzo è un giro E' questo ragazzo è un giro Congratulazioni E' questo ragazzo è un giro clamoroso O pali-goal o niente E' questo ragazzo è un giro clamoroso Dici che hai recuperato comunque Perché all'inizio faceva due o tre Sì, ho imparato Perché nel primo E' stato molto veloce E ora prendo il mio tempo E poi guardo in questa posizione Perché è come un penalti Sì, ma ora Ho chiamato il clean sheet Nooo Ho nulla per loro Zerro E' ti chiamata Ok, ok, ok Ma prima Ho chiamato il clean sheet È vero? Perché il giardino Ho arrivato Tutte le persone No, la prima domanda Ho dovuto fare una domanda Questo metto sotto il tuo lato Com'è il rapporto per un calciatore Attualmente in attività Con la famiglia Gli amici Gli amori Ehm I would say Like You need to have a good person You know, around you Is the best way to have Your mentality Like, you know Good When you have a best person Around you It's more easy, you know To have Like, part of football And also part Without football So For me Is like When In your family Everything is good You know They help you They give you good Advice Or something Is more easier for you You know To have The The balance You know For each Things that you are doing And ask If you want to send a message To young people Who are also good at playing But who are losing their mentality I would say They need to dream You know When you dream I think Everything I come You know You need to dream And then The best thing I can say To work hard You know Because We have talent We don't work You know You cannot have this chance To become a good football professional So Yeah You have your talent But if You work hard You have a good Bisogna sognare Adesso io torno lì Perché siamo a 18 su 60 18 O 60 Thank you Again And Please Destroy the keeper Ok You try You try 18 Su 60 Bisogna sognare E allora anche noi sogniamo ragazzi Ok 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 Raga ormai ha capito come calciare Ha capito com'è la challenge Uuuu Nooo 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 Bravo ragno Precisa E la mette lì Ventesimo gol Ventesimo gol 3 balls Odi You could surpass your personal record Bello Ok 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 You tried the shot with power Si parte di nuovo ragazzi Da 71 a 80 This is the time Siamo a 21 gol Siamo a 21 gol This is the time 22 Bello Quella parte lì lo sta distruggendo Odilon This match Is the match Of your record Nooo Nooo Si così Attention please Attention please Attention please Attention please Is the match You could surpass It's the match Oh 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 superare il 50%. Ottantesimo tiro. Eccolo! Ragazzi, che dire, è rimasto lì. Ha recuperato il brutto. Io gli avevo detto comunque che questo sarebbe stato il suo giro record. Ho detto, ho detto. Ma dove giochi? No, no, no. Just leave him alone sometimes. Special kid. He's a special kid. By the way, this round, digli che questo round ha permesso secondo me veramente come ha detto lui prima di sognare perché mancano 20 tiri. Tu hai 20 gol. Quanti gol è? Quanti gol è? 27. 27. 20 gol, eh. Chiedigli per favore, perché io ho cercato su internet e lui vale 28 milioni nel mercato comunque calcistico. Chiedigli come fa un calciatore comunque a rapportarsi con questa cosa, di avere tanta pressione comunque anche a livello proprio numerica. e quindi, come se staccia lì. Io direi che non il fatto questo, tu sei solo che ci staccia lì, e non guarda tutto questo. E quindi, l'automobile della squadra, quali ci staccia lì, e che si staccia lì, se staccia lì, se staccia lì. Quanti staccia lì, se staccia lì. Non guarda tutto questo. La prima cosa staccia lì, ci staccia lì, la staccia lì. La staccia lì, gli staccia lì a gioccioli. Penso che per me è il più importante, e poi tutto il resto è Cameloni. Perché sempre su internet, andando a vedere su FIFA, chiedi magari anche se gioca. Gioca a FIFA! Il tuo card ha 78 rating, ha 85 potenti. Quindi sei uno dei migliori whitebacks del gioco, esattamente per la moda di career. Gioci di career mod, o hai molti fan che ti taggono o scrivono per questo gioco? Sì, specialmente quando la card è arrivata, e poi tutti lo vedono, ho due amici di me, che mi hanno messo la card in me. E' stato felice, perché tutto questo mi ha dato energia, per continuare a dare tutti i miei besti sul gioco. Ora? 20 tiri. 20 tiri. 20 tiri. Ok? Non stoprò, ma vedremo quando il challenge finirà. Ok? Non puoi fare un errore. Non puoi fare un errore. Mancano 20 tiri! Sta arrivando il buio! Non è possibile! Vogliamo subito il 28 e il 29. Ed eccolo! Mamma 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 mamma! 28! È partito alla grande, ormai ha capito proprio come tirare ragazzi. Fa questo tiro dove si sbilancia in avanti col corpo e riesce a metterla quasi sempre sotto il 7. la prima volta. Come è scesa! Come è scesa! Ah! 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 ball ancora ragnar the last one si concentra guarda fino alla fine del portiere e la mette lì con nonchalance con una tranquillità incredibile così così easy e adesso gli ultimi dieci gli ultimi dieci tiri sotto il diluvio della germania we want your 100% right now hodion con sunu per il 30 ce l'abbiamo non vedo più nulla ragazzi ho gli occhiali tutti appannati ragazzi qua la pa sembrava fuori però qua ragazzi che gli vogliono dire 31 31 32 sa che è l'ultimo giro centrale bene i saw him inside para ragno che gol il centesimo tiro attenzione odion con sunu parte così 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 like this like this like this ce l'abbiamo è stato it was really an honor for us really 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 amazing person and amazing player mi raccomando ragazzi andiamo a seguirlo tutti quanti odion con sunu il tag andiamo tutti follow mi raccomando che così torniamoci invita la partita quindi un po di a little bit of super italian support for for you you know vogliamo farci sentire vogliamo farci sentire noi italiani quindi thanks again to us here and congratulations we hope for you the best for you for your future personally and football so how to say how do you want to finish the video yeah i'm still like it's a pleasure to meet you guys and it was really nice to have it thanks thanks this time and yeah i'm happy to see you and then i hope i'm gonna see you again thank you it's not like no yeah but it was good it's not no yeah maybe the beer I'm like you're younger I'm younger I'm younger I'm younger I'm younger I've also visited other players ex but this time I'm in an activity and they told me and it will be fine because those who pass on from here then do well so I thank you again I thank you from Yonkusuno I thank you all of you who are watching and we have started from nothing we're going to do a video with the football team of the Bundesliga and the national team so thanks to everyone thank you again thank you Yon thank you